Adesso va di nuovo da Mauri Mauri è immobile, Max S continua a dire le linee di tutte Ancora Max S, Montolivo prova a fare il buttafuori Tutti intorno a Max S L'altra manata, anche Radu Un brutto finale Altra espulsione di Max S contro la Lazio Adesso una mano intorno al collo